Il camerano espugna il salvo d'acquisto superando il Loreto con la rete in apertura di gara dell'Under Bellucci che consente ai ragazzi di Montenovo di conquistare tre punti che permettono al camerano di conservare un buon margine sulla zona salvezza mentre il Loreto con questa sconfitta appare ormai condannato alla retrocessione. Il Loreto arrivava a questa gara dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Porto Sant'Elpidio consapevole di essere alla ricerca di punti vitali mentre il camerano con il morale alto dopo il pari interno con il Porto d'Ascoli terza della classe doveva rinunciare allo squalificato Polenta. L'apparente equilibrio dei primi minuti viene subito spezzato da un'indecisione dei padroni di casa al settimo. Capeci in fase di impostazione consente a Donzelli di intercettare e partire palla al piede sulla sinistra fermato in angolo da Maruzzella dopo essere entrato in area di rigore. Sugli sviluppi del tiro alla bandierina sul pallone spedito a centro area sbuca la testa di Bellucci che anticipa tutti e schiaccia bene di testa davanti a Tomba infilando la rete bianco-verde per lo 0-1. Il Loreto prova subito a reagire tentando di alzare il baricentro ma la squadra di Moriconi deve fare i conti anche con la sfortuna perché all'undicesimo dopo un contrasto sulla trequarti Brugia Paglia resta a terra e intorno al quarto d'ora dovrà abbandonare il campo cedendo il posto a Balloni. Intanto al tredicesimo ancora Donzelli tenta la via della rete ma il suo sinistro si perde largo. I padroni di casa si vedono per la prima volta al diciottesimo quando Ruzier riesce a liberarsi dal limite destro ma il suo tiro è debole in preciso meglio due minuti più tardi Agostinelli che raccoglie un lancio in avanti e tenta il diagonale in corsa con la palla che sfiora il palo alla destra di Lombardi. Il camerano controlla e cerca Varchi per colpire in contropiede mentre il Loreto appare efficace nella manovra fino alla trequarti avversaria per poi perdersi negli ultimi 20 metri. Insiste generosa la squadra di Moriconi ma troppo frettolosa ed imprecisa fatica a costruire pallegol con il camerano ben raccolto ed ordinato che non si concede sbavature. Poco prima della mezz'ora un'azione insistita sulla destra porta Agostinelli a mettere in mezzo un buon pallone su cui però nessun giocatore di casa è pronto ad arrivare. Un minuto più tardi ancora Donzelli col sinistro dal limite chiama tomba a bloccare a terra. Al trentacinquesimo Balloni sguscia via Bellucci che lo ferma in modo ruvido ma corretto secondo Bottin di Ancona che subito dopo ammonisce il giocatore Loretano per l'intervento sullo stesso Bellucci. Un minuto più tardi Garbuglia dai 20 metri libera il destro che esce da un soffio alla sinistra del palo di Lombardi. Al trentottesimo un'indecisione di Scalella e Camilletti permette a Santini di involarsi verso l'area avversaria e servire la corrente pericolo che però calcia centralmente tra le braccia di tomba. La gara è apertissima e il Loreto cerca il pari prima del riposo ma la deviazione di Maruzzella al quarantesimo su punizione da destra ai Moriconi provoca brividi ma si perde sul fondo. A rientro in campo dagli spogliatoi schieramenti invariati è gara che resta combattuta e vivace ed il Loreto si fa vedere due volte in tre minuti con Garbuglia al quinto contrastato sul colpo di testa da un difensore e poi al settimo quando il suo destro in diagonale non inquadra la porta mentre dall'altra parte Marchionne pochi istanti dopo calcia centralmente per la comoda presa di tomba. All'undicesimo Moriconi cerca la porta alla distanza ma il suo tiro viene deviato in angolo da un difensore. Il Camerano indietreggia in difesa il vantaggio con il Loreto che ora riesce a schiacciare i ragazzi di Montenovo nella propria metà campo. Al quarto d'ora Agostinelli guadagna una punizione dal limite. La conclusione di Ruzziar è insidiosa ma non sorprende Lombardi che respinge lontano la minaccia. Il Camerano si fa vedere un minuto dopo con un innocuo colpo di testa di Donzelli su azione di corner ma la squadra di Montenovo si divora il colpo e il KO al 69esimo quando un'azione di contropiede in superiorità numerica viene fermata in extremis dalla chiusura in angolo della retroguarga bianco-verde. Subito dopo doppio cambio con Scalella che fa spazio a Buffarini nei padroni di casa e Moretti che rileva Marchionne per gli ospiti proprio da una percussione. Di Marchionne nasce l'episodio che potrebbe sigillare il match perché Donzelli riceve il passaggio del compagno e può liberare il sinistro da posizione defilata. La palla coglie la parte passa della traversa rimbalza sul terreno di gioco e sbatte sul palo prima di essere catturata da tomba. Per il direttore di gara ed il suo assistente il pallone non ha varcato la linea di porta e fanno proseguire. Al 74esimo Montenovo richiama pericolo per Taddei mentre il Loreto sciupa un'altra punizione con Moriconi che manda alto. Il Camerano vede il Loreto alle corde e prova a guadagnare campo ma a 10 dal termine il tiro di Santini viene deviato quel tanto che basta per uscire al lato di un soffio. Inutile il cambio a 5 dal termine di Moriconi che toglie Agostinelli per inserire Petrini. Il finale scorre senza altri sussulti con il Loreto ormai stanco ed il Camerano che gestisce senza patemi fino al triplice fischio finale. Mister Moriconi una disattenzione su una palla inattiva dopo 7 minuti e la situazione ormai è praticamente disperata. La sua squadra comunque oggi ha tenuto molto bene il campo. Disperato non c'è niente. Uno è disperato quando sta per morire. Se si perde una partita si sta abbacchiati ma disperato assolutamente anche perché c'è ancora tre partite quindi non vedo perché dovevamo essere disperati. Hai ragione tu. al piccolo la piccola prima disattenzione beccamo gol come come polli e stanno purtroppo se va così. Qualche volta mi lamento degli arbitri perché anche lì non è andata mai bene e poi dice che io non devo parlare ma io spiego magari un motivo per cui abbiamo fatto solo quattro vittorie. È ovvio che oltre a quello lì ci sta anche la nostra i nostri sbagli. È evidente però anche oggi come del resto quasi tutto il campionato è primo errore e disattenzione. Il più piccolo di loro ci ha fatto gol di testa. Poi dopo ci siamo messi in careggiata. Abbiamo fatto noi la partita come come era normale che sia. Loro erano venuti con 5 difensori però davanti noi quest'anno facciamo fatica siamo un po' troppo prevedibili. Qualcuno che anno scorso saltava con tranquillità l'uomo quest'anno non ci riesce e quindi se non fai gol poi le partite non le vinci. Gol che saranno importanti nelle prossime tre gare per fare quei punti vitali per la salvezza? Massimo è un pezzo che diciamo che bisogna bisogna cambiare passo bisogna cambiare passo però per un motivo per l'altro ancora non ci riusciamo. È chiaro che diventa difficile però allo stesso tempo è chiaro che la matematica ancora non ci condanna quindi andremo a fare partite sperando che qualche episodio ci cambia e sperando che noi mettiamo più attenzione. è evidente. Mister Montenovo tre punti fondamentali oggi qui al salvo d'acquisto per la corsa salvezza? Sì era quello che speravamo insomma all'inizio della partita quindi siamo contenti perché poi durante la partita è un po' cambiati gli equilibri di come l'avevamo preparata perché con il gol iniziale comunque abbiamo fatto una partita diversa un po' più sull'attesa ma sfruttando un po' di più le ripartenze penso che abbiamo rischiato veramente poco e forse l'unico rammarico è che la dovevamo chiudere prima la partita perché abbiamo comunque avuto due o tre occasioni nitide proprio con tra l'altro il tiro di Donzielli che non ho capito se era gol o non era gol è stata un'azione sembrava un flipper e quindi bene abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo fatto un passo importante per raggiungimento comunque di questa salvezza. Ci teniamo a finire bene per onorare tutte le partite sapendo che ancora la matematica della salvezza che credo che non ci sia però vincere oggi a Loreto con 13 punti di vantaggio comunque sulla penultima o sull'ultima posizione non so al Barbara quello che fa domani comunque è un elemento un po' più positivo insomma.